Salve a tutti, sono il dottor De Mari, farmacista esperto in fitoterapia. Oggi parliamo di stitichezza e stipsi. Ora, al di là della definizione medica di stitichezza e stipsi, che è una problematica per la quale soffrono 14 milioni di persone in Italia, io direi di dare una definizione tratta dai vari racconti, quindi dai vari sintomi alle quali le persone vanno incontro. Allora, alcune persone mi dicono, guarda, la mia stitichezza è data da poche evacuazioni settimanali, quindi sono persone che non vanno regolarmente di corpo, ogni mattina con un orologio svizzero, ma vanno ogni tanto, che possono andare dalle una volta a settimana, due volte a settimana. Presenza di fesci molto dure, quindi nel momento in cui vado a generare una defecazione, la fuoriuscita dall'ano diventa anche dolorosa. sforzarsi molto, ci sono persone che in realtà tendono a sforzarsi molto, quindi per questo per loro è la stitichezza, ed altre persone che una defecazione quasi inconcludente, quasi scarsa, quindi non soddisfacente, ovvero sono quelle persone che anche se vanno tutti i giorni di corpo, si sentono come se non avessero evacuato completamente il loro contenuto. Ora, da cosa dipende questo? Cioè, perché una persona è stitica o ha defecazione? Io direi, prima di ricorrere immediatamente a dei lassativi, che bisogna fare attenzione all'utilizzo del giusto lassativo, lassativo normalmente sono droghe antrachinoniche che tendono ad irritare ulteriormente l'intestino, la prima cosa da verificare, a mio avviso, è proprio nello stile di vita e nell'alimentazione. Infatti noi sappiamo che persone che bevono poco acqua, questo tende ad avere una stitichezza, quindi se bevi poco e sei stitico, mi raccomando, cercati il video precedente con la formula dell'acqua, ma l'indicazione è più o meno un litro e mezzo, due litri di acqua al giorno. Magari esistono dei esercizi che ho pubblicato nei video precedenti, che puoi andare a rivedere. Alimentazione con poche fibre, quindi persone che non mangiano verdura, che non mangiano frutta, che non mangiano cereali integrali. Allora, in questo caso, se non mangi frutta, verdura, cereali integrali, legumi, quindi un'alimentazione scarsa di fibre, un'alimentazione scarsa di acqua, quindi non bevi abbastanza acqua, invece di andare a ricorrere immediatamente a dei lassativi veri e propri, quindi queste droghe antrachinoniche, il mio consiglio è quello di andare a cambiare un pochino le tue abitudini e vedrai che già, integrando della frutta, integrando delle verdure, integrando fibre, cereali integrali e via dicendo, avrai un miglioramento o la soluzione della problematica di stitichezza o stipsi. Poi può verificarsi, quindi l'insorgenza della stipsi può essere derivante da patologie più importanti, come ad esempio il Parkinson, come ad esempio la sclerosi multipla, e in quei casi bisogna creare degli altri interventi più mirati, che appunto non tratterò in questo video, che vuole essere un video più divulgativo. Ora, cosa succede all'interno dell'intestino? Perché diventiamo stitici? Normalmente abbiamo una infiammazione della mucosa intestinale, dove magari interveniamo con della curcuma, abbiamo una problematica del GALT, che abbiamo visto nei video precedenti, interveniamo con un gemmo derivato di castanea vesca, e già lì stiamo intervenendo a monte. Tutta questa infiammazione della mucosa mi ha portato in realtà a una disbiosi, quindi questa disbiosi poi mi porta a cosa? Immaginate ad avere una mucosa intestinale con delle microfratture, delle piccole lesioni. Dato che la defecazione avviene per una peristalsi, ovvero per la contrazione di questa muscolatura liscia, nel momento in cui ho un intestino infiammato, ho un intestino con magari delle piccole lesioni, quindi queste microferitine, ovviamente l'intestino si mette in protezione e cercherà di ridurre i fenomeni di peristalsi, e allora ho un blocco delle feci all'interno dell'intestino. Allora come si ricorre a questo? Come si interviene? Bisogna andare a interviene sull'infiammazione, la curcuma, il gemmo derivato di castanea vesca a monte, e ovviamente degli ottimi probiotici e prebiotici. Poi ovviamente esistono dei rimedi lassativi, che anche io consiglio, ma veramente al bisogno che consiglio sempre con le pinze, perché a mio avviso poi si diventa dipendenti e non diventa l'intervento migliore. Io ho trovato una formulazione composta da cassia, aloe, finocchio, anice, camomilla, rabarbaro, liquidizia, rosa di macchia. Questa formulazione in estratto secco, quindi sono delle compressine da assumere solo la sera, hanno il vantaggio che la defecazione risulterà naturale, perché le persone non diventano dipendenti da composizioni del genere, sarà naturale la defecazione dopo le 24 ore dall'assunzione, quindi solo la sera, da prendere ogni tanto al bisogno per darci un aiutino. Ma l'intervento migliore è quello di curare l'alimentazione, curare la disidratazione, e soprattutto l'infiammazione della mucosa intestinale con della curcuma e un gemmo derivato di castanea vesca. Non scordarti probiotici e prebiotici per andare a intervenire su questa tempesta e solo andando a riparare, grazie a Bifidobacterium, le microferite intestinali, noi andiamo a risolvere una volta per tutta le problematiche di stipsi e stitichezza. Grazie dell'attenzione, spero questo video ti sia stato utile. Ciao!